CINEMA Straordinariamente bello, grazie. Grazie a voi, signor Turner. Mio figlio disegnava già prima di imparare a leggere. Papà. Constable Turner. Dipingete ancora i vostri quadretti, signor Turner. Sarebbe un ottimo soggetto da dipingere. Oh, voi dite? Devo meditarci su. Quando mi trovo di fronte ad un capolavoro come il vostro, sono colpito dalla precisione con cui riuscite a catturare l'attimo. Perché mai farebbe una cosa del genere? Distrugge un capolavoro. È una boa. Incredibile. Bravo, bravo. Il signor Turner ha definitivamente preso congedo dalla forma. Turner. Sta diventando cieco, è chiaro? Il capolavoro che vi presento dal signor Turner fu dipinto. Penso che siate un uomo di grande spirito e di buoni sentimenti. L'universo è caotico e voi ce lo mostrate. Siete un uomo molto acuto, signor Turner. Siete un uomo. Siete un uomo. Siete un uomo.